Ok, perfetto. Allora direi assolutamente di cominciare. Buongiorno a tutti. Gianluca Pucci, manager dell'area sales prevendita di Watchcar per il territorio italiano. Il focus del webinar odierno è, come chiaramente avete potuto immaginare dal titolo, sono le mobile VPN. Quindi dedicheremo questa mezz'oretta ad una sostanziale overview delle tipologie di mobile VPN che Watchcar propone, come andarle ad interpretare, come renderle il più sicure possibile, quale scegliere e sostanzialmente qualche trick di configurazione che può tornare utile. Prima di cominciare, chiaramente un paio di indicazioni come di consueto. Il webinar è registrato, quindi sarà possibile poi rivederlo sul nostro canale Watchcar d'Italia, sul nostro canale YouTube Watchcar d'Italia. Tempo tecnico solo dell'upload, ma in giornata dovrei riuscire tranquillamente ad uploadarlo. Alla fine ci riserviamo le eventuali domande alla fine del webinar, così che lasciare una fruizione, diciamo così, abbastanza lineare per poi chiaramente andare a rispondere puntualmente alla fine del webinar con i vostri, con i vostri quesiti. Allora, partiamo con, con l'argomento principale del nostro webinar, l'unico argomento in realtà del nostro webinar. Quindi le mobile VPN. Chiaramente è un argomento storicamente ben noto in Watchcar, ma che, diciamo, per ovvi motivi, negli ultimi due anni, ormai diciamo che sono passati due anni, ha avuto di nuovo e rientrato dal punto di vista tecnico e commerciale in auge in maniera molto molto consolidata. Chiaramente il dover ricorrere allo smart working o quantomeno rendersi conto che la VPN era vincolante dal passaggio dal teleravoro allo smart working, ne ha ovviamente ripristinato la necessità e chiaramente sono risaltati fuori vari scenari, differenze, scelte, migliorie e quant'altro. Allora, qualche consiglio, partiamo dalle basi, qualche consiglio su quale tecnologia mobile VPN scegliere. Quindi sostanzialmente dal momento in cui io posso proporre al mio cliente finale la possibilità, terminata su un Firebox Watchcard, di creare una mobile VPN, ovviamente devo andare ad optare per la scelta. I fattori di scelta possono essere, diciamo, un pochettino più tecnici, un pochettino meno tecnici in termini di convenienza. Cercheremo di dare, non proprio scendendo nel dettaglio tecnico specifico, ma cercheremo di dare una direttiva di quelli che ci premono di più. Quindi sostanzialmente partiamo dalla sicurezza, dal punto di vista della sicurezza la VPN IKV2 è ad oggi la scelta, la soluzione più con alto livello di sicurezza. Innanzitutto per i protocolli utilizzati, quindi l'IKV2 al posto dell'IKV1, rimane di base chiaramente una mobile IPsec, ma sicuramente poi per gli algoritmi di cifratura e per la dipendenza diretta con diciamo con il certificato, anziché utilizzare poi la pressure key, sicuramente più debole. Ecco, dal punto di vista della flessibilità, probabilmente il punto debole della VPN IKV2 è che ad oggi si può integrare direttamente con il FireboxDB e con un Redius. Vedremo poi a breve che in realtà c'è poi chiaramente la possibilità di creare una dipendenza diretta anche con la TIL directory, ma con una certa condizione di natura tecnica. La facilità di utilizzo, chiaramente qui possiamo esprimerci ancora a favore della IKV2, ma se vogliamo in realtà in maniera paritaria, a eccezione fatta per l'IPsec, tutte le VPN dell'IKV2, l'L2TP e l'SSL sono facilmente utilizzabili. Ecco, l'IPsec ancora richiede specificatamente, non potendo contare per l'ambiente Windows di un client apposito, diciamo dell'installazione e della configurazione di un client separato, mentre l'IKV2 è presente in tutte le piattaforme dei sistemi operativi in maniera nativa, così come l'L2TP, mentre l'SSL è chiaramente facilmente utilizzabile grazie al nostro semplicissimo client scaricabile, utilizzabile in ambiente Windows e Mac, oppure utilizzando, come vedremo poi quando analizzeremo in maniera specifica l'SSL, utilizzando l'OpenVPN. Quindi diciamo che anche qui, diciamo, primariamente come facilità di utilizzo, privilegiamo l'IKV2, diciamo che la più disagiata con questo punto di vista è proprio l'IPsec per i motivi che citavo sopra. Altro punto di vista che ci interessa molto, altri ultimi due punti di vista che ci interessano molto, sono la portabilità e le performance. Ecco, la portabilità qui chiaramente si invertono un pochettino i ruoli, perché chiaramente ad essere facilmente selezionabile, ed è in realtà poi uno dei motivi per cui probabilmente la più diffusa l'SSL, diciamo che non conosce ostacoli dal punto di vista della portabilità, perché qualsiasi connettaglio utilizzi, avendo un solo layer di sicurezza instaurabile su una sessione, vuol che sia supporta UDP o TCP, su supporta 443, chiaramente è un servizio, una porta assolutamente accettata da tutte le, praticamente da tutte le connettività che io ho in gioco. Diverso è, come ben sapete voi che siete sul campo, diverso il discorso per chi adotta l'IPsec che chiaramente deve avere liberi e accettati determinati protocolli, determinate porte, quindi senza scendere nel dettaglio come potete ben intuire da questo discorso, quindi le classiche connettività che non accettano in pastru il passaggio del protocollo IPsec che possono creare delle problematiche da questo punto di vista. Magari ci può venire in aiuto il Natraversal, però sicuramente ecco la scelta preferenziale se dovessi valutare solo questo punto di vista chiaramente ricade, ripeto parliamo solo di portabilità, ricade sull'SSL. Ritorniamo poi chiaramente ad avere una gerarchia più chiara, confacente poi a quello che abbiamo detto finora per quanto riguarda le performance, quindi anche qui le performance vedono le SSL in ultima postazione perché comunque il processo crittografico utilizzato è decisamente un pochettino più pesante a fronte invece di un aumento delle performance notevole utilizzando la VPN IkeV2. Un piccolo trick per migliorare le performance di una VPN SSL è quello di cambiare il data channel passando da TCP a UDP, quindi lì sensibilmente si aumentano le performance. Ancora prima di scendere un pochettino nell'area tecnica andiamo a intendere un parametro tecnico barra commerciale che riguarda la capacità di tunneling dei device. Ogni device ha un numero di simultaneo di connettività mobile ben definito che viene diciamo tradotto da questo link, quindi vi faccio vedere direttamente il link della nostra documentazione tecnica onde evitare chiaramente delle cattive interpretazioni. Allora, quando vedete sul datasheet, ormai tutti i datasheet portano un numero singolo generico di mobile VPN, ok? Quindi viene definito il numero mobile VPN, faccio un esempio 50. Come da interpretare questo numero? Come si evince, diciamo così, da questa, dalla spiegazione tecnica e da interpretare praticamente per ogni tecnologia o quasi? Ovvero, se vedo 50 mobile VPN sono da interpretare come 50 connessioni in tecnologia alle due TP, 50 connessioni da condividere fra Ike V2 e i PSEC, quindi qui non è 50 e 50, ma è 50 in condivisione con queste due tecnologie, è 50 per le SSL VPN in eventuale condivisione con i management tunnel SSL, le branch office VPN SSL e le mobile VPN SSL, appunto. Ma se non dovessi considerare il concetto di branch office VPN over TLS, direi che 50 è specifico solo per le mobile VPN, ok? Quindi il numero condiviso diviene ad essere solo quelle per il daemon IPSEC, ok? Quindi interpretate il numero che vedete nei datasheet di mobile VPN come un numero praticamente specifico per ogni tecnologia eccezion fatta per le IPSEC che lo condividono, quindi l'IPSEC, passatemi il termine Ike V1 e Ike V2, ok? Ritorniamo alla nostra scelta per andare a considerare un altro parametro decisionale abbastanza importante per andare a scegliere le mobile VPN che è quello del database di appoggio. Qui abbiamo una flessibilità abbastanza diffusa, nel senso che, per esempio, una cosa molto molto importante, l'implementazione con Outpoint, Outpoint, per chi non lo sapesse, è il nostro prodotto verticale di multi-fetor authentication, la cui una delle applicazioni principe è proprio quella di annetterlo alle mobile VPN, quindi possiamo offrire una soluzione di multi-fetor authentication per tutte le tecnologie VPN. non solo nei firewall watchcard, quindi non è una soluzione applicabile esclusivamente quando la chiusura del tunnel è sui firewall watchcard, ma su qualsiasi firewall, diciamo di qualsiasi vendor, a patto che la condizione necessaria in quel caso è quello che il firewall possa supportare come database di autenticazione il radius, ma diciamo che è una condizione assolutamente presente su tutti, anche perché diffido a prendere in considerazione un firewall che non possa mettere un radius come database di autenticazione. Tornando a parlare in maniera più generica, vedete anche l'Active Directory è presente, applicabile su tutte, piccolo contrassegno per quanto riguarda l'IKEV2 e l'L2TP, perché in questo caso occorre, come indicato, quindi occorre configurare l'autenticazione con Active Directory attraverso il supporto radius server, quindi attivando eventualmente l'NPS server, il servizio NPS, scusate, all'interno dell'Active Directory, che è in buona sostanza un servizio che trasforma, chiamiamolo così, la normale Active Directory in un radius, oppure ad esempio utilizzarla annessa alla soluzione Outpoint, dove il gateway Outpoint migrerà agli utenti Active Directory nel cloud e il firewall vedrà la componente radius come appunto radius specifico, ma esportando, ma facendo riferimento, scusate, a utenti e a gruppi di utenti con le proprietà sincronizzate dall'Active Directory, quindi in buona sostanza avere alla fine dei conti, lato utilizzatore finale, la stessa user experience rispetto alla dipendenza nativa con l'Active Directory, ok? Qualche limitazione per quanto riguarda l'LADAP, specificatamente su IKEV2 e l2TP, radius su tutte e security ormai avendo noi la soluzione interna non lo promuoviamo neanche più e chiaramente nessun tipo di problema con il Firebox LocalDB. Quindi diciamo questo piccolo preambolo iniziale ci ha aiutato un pochettino a individuare, senza ripeto scendere troppo nel dettaglio tecnico, quali sono i punti fondamentali da valutare nel dover scegliere una VPN, un tipo di VPN, quindi in buona sostanza ricapitoliamoli, la sicurezza, quindi qual è il tunnel che mi garantisce maggiore sicurezza, qual è il tunnel più facilmente gestibile in termini di portabilità, qual è il tunnel che mi dà le maggiori performance, qual è la tecnologia di tunneling che mi dà le maggiori performance. Tutto questo ovviamente annesso a quali sono le condizioni della mia infrastruttura, ovvero qual è il database di riferimento da poter utilizzare. Andiamo adesso nella parte di configurazione, quindi per andare a vedere sostanzialmente come le nostre mobile VPN, lato Firebox, poi ritorneremo sulla documentazione tecnica per parlare del client, quindi come lato Firebox io vado a preparare il profilo o i profili delle mie mobile VPN. Quindi nel getting started posso andare ad utilizzare dei tool di wizard oppure di ritocco della configurazione direttamente da qui. E in alcuni casi, in realtà per la stragrande maggior parte dei casi, eccezione fatta per l'L2TP, posso anche automaticamente, cosa che fa di WatchCard una scelta preferenziale molto forte per le mobile VPN, posso andare a tirare fuori anche il client profile, in maniera tale da facilitare il deployment e l'attivazione della mia VPN, nel lato client, quindi praticamente il classico profilo di configurazione che con un automatismo molto semplice va ad essere inserito all'interno del mio client. Partiamo dall'IKEV2, quindi l'IKEV2 prevede un profilo solo di configurazione, quindi il profilo è sostanzialmente unico, ma in realtà come vedete annettendo poi diversi gruppi come autenticazione posso attraverso le policy posso poi discriminare quale gruppo vede quale risorsa, quindi in realtà non mi vincola in alcun modo a dover avere una sola condizione di distribuzione di visibilità una volta annesso alla rete. In questo caso il deployment è molto semplice proprio perché grazie al client profile io vado a poter scaricare lato download il file tgz, nel file tgz troverò delle indicazioni sostanzialmente per andare a configurare i vari client, quindi nello specifico facciamo un salto per la parte client, quindi una volta completato il wizard di configurazione che annette il profilo, quindi qual è l'IP pubblico del mio firewall, qual è il virtual IP da utilizzare, ecco la VPN IKEV2 annette automaticamente il full tunnel, quindi navigo attraverso il tunnel, quindi questa è una cosa non modificabile sostanzialmente, a meno che di andare a ritoccare le rotte statiche del client, però su questo contesto il supporto di watchcard è limitato perché è una configurazione inerente a Windows, ok? Quindi questo ci tenevo a sottolinearlo. definito i database di autenticazione, quindi anche in questo caso poter inserire più database, con la tecnica di poter selezionare i database senza andarli a indicare qualora fosse il primo di default, quello che mettete qui, e invece indicandolo nella nomenclatura dello username, come vedremo a breve, qualora fosse il secondario. e qua puoi andare a mettere i gruppi o i singoli utenti provenienti dai database che voglio annettere alla mia VPN. E qui gli aspetti di sicurezza con le varie shared secret e quant'altro, chiaramente poi da adottare qualora configurassi il client in maniera manuale. Tornando alla gestione del client, per quanto riguarda l'IKEV2, quindi il wizard, ripetiamo, mi permette di andare a scaricare il file, un file tgz completo di tutte le istruzioni. Cosa porta questo file tgz? Ritorniamo un secondo nella documentazione. Non ho fatto slide proprio per rilanciarvi direttamente nella documentazione diretta e andando a vedere per quanto riguarda il client. Allora... Allora, vedete in questo caso i sistemi operativi su cui posso applicarla, Windows 10, Windows 8.1 e andare qui poi a vedere sostanzialmente sul file tgz che cosa il mio firewall mi porta. Quindi apriamo il link specifico Lo apriamo, ad esempio, per... Ora c'era un file precedente che ora vi andrò a provare. Datemi solo un secondo. Eccolo qua. Allora, una volta estrapolato il tgz vedete che io ho all'interno della locazione del file ho le indicazioni per quanto riguarda i vari sistemi operativi. Quindi in ambiente Windows troverò sostanzialmente un file di istruzione, i certificati che mi servono e uno script da lanciare automaticamente per ottenere in automatico la configurazione lato client. Quindi il deployment è molto molto semplice proprio grazie a questo script autoprodotto dal sistema. In ambiente macOS ho anche in questo caso un file di guida e una configurazione sostanzialmente da lanciare o da importare automaticamente con le istruzioni descritte relativamente ai sistemi iOS o macOS per la creazione automatica o manuale del tunnel e stessa cosa in Android. In Android serve un'applicazione aggiuntiva che si chiama StrongS One quindi poter implementare la VPN IKV2 in ambiente Android implica l'utilizzo di un'applicazione ovviamente free che ospita appunto questo file ovviamente correttamente inserito attraverso le istruzioni. Quindi le istruzioni e le modalità sono definite chiaramente nella nostra guida tutte quante ottenute dal download del profilo che si ottiene una volta creato il profilo e quindi attraverso il wizard scaricato come file tgz quindi file tgz che contiene tutte le indicazioni come vi ho mostrato per correttamente andare a implementarlo lato client. Per quanto riguarda la VPN SSL il discorso è sostanzialmente il medesimo ho un solo profilo ma anche in questo caso posso andare a discriminare diverse policy create manualmente dove nel campo from vedo direttamente posso andare a inserire direttamente i gruppi a cui mi interessa andare a porzionare le risorse di rete o i determinati servizi a cui voglio farli accedere. Chiaramente come ben sapete e ben vedete la creazione di una policy scusate di un profilo VPN crea automaticamente una policy all quindi dove vada a inserire praticamente già tutti gli utenti autorizzati posso cancellarle posso andare a diciamo fare un file tuning passatemi in termine andando a definire ad esempio quali gruppi possono vedere quali servizi e su quali porte andarle a discriminare. e sempre per quanto riguarda la parte delle VPN SSL anche in questo caso vedete posso andare a scaricare direttamente il client per Windows e per Mac e qualora utilizzassi OpenVPN andare a scaricare direttamente il profilo da dare in pasta OpenVPN quindi in circostanze di connessione è prettamente mobile quindi dispositivi cellulari o tablet che utilizzano questa tecnologia sempre in ambiente VPN anche in questo caso il file è proposto da noi con la produzione di un file o VPN appunto proprio per essere assolutamente pronti a poter negoziare il mio il mio tunnel SSL l'L2TP ha una configurazione manuale quindi chiaramente creato il profilo dovrà andare poi nei vari client e configurare manualmente la diciamo i vari le varie impostazioni senza poter usufruire in questo caso di un profilo di configurazione cosa che invece è fruibile per l'IPSEC in realtà anche io diciamo dal punto di vista dei consigli e dell'utilizzo sto vedendo questa tecnologia sempre venir meno quindi sempre venir meno la volontà di utilizzare l'IPSEC proprio per i vantaggi che già da l'IKEV2 ma in questo caso è opportuno sottolineare una cosa diciamo valevole cioè creiamone uno nuovo assieme allora innanzitutto come potete come avete visto l'IPSEC è l'unica tecnologia al momento di WatchCard che fa creare più profili quindi lanciando il wizard io vado a definire il database di riferimento per il primo profilo con il primo gruppo ovviamente posso annettere tutti i profili compatibili vado a inserire la shared secret vado a definire in questo caso ho l'opzione di scelta come vedete se incanalare diciamo così tutto il traffico attraverso il tunnel quindi questo potrebbe essere ottimale per ottenere un controllo della navigazione del mio mobile user qua anche quando si trova fuori dalla zona comfort quindi quando si trova fuori dal perimetro aziendale oppure lasciar navigare su internet direttamente dal node ISP di proprietà vado a inserire vado a inserire qua chiaramente la network a cui voglio accedere quindi che ne so andiamo a mettere un singolo host e quali sono diciamo il range di indirizzi in DHCP che verranno assegnati agli utenti che si andranno a collegare finito questo ho creato il mio profilo per il profilo sottolineiamo due cose per questo profilo posso generare un anche in questo caso un file di configurazione com'è da interpretare questo file di configurazione questo file di configurazione è diciamo specifico da considerare per l'utilizzo del client watchcard a pagamento che proponiamo client IPsec watchcard a pagamento allora in questa locazione mi viene creata questa cartella VGX andiamone a vedere il contenuto in di che di l'utilizzo allora il primo file è un file ini quindi se ne andiamo a vedere le proprietà lo vediamo direttamente ed è da utilizzare nel momento in cui io utilizzo il client watchcard vpn ok quindi quello a pagamento nato da è un prodotto ncp che utilizziamo come oim è da utilizzare questo file quando la mia necessità di configurazione quella di poter ritoccare in automatico o con diversi profili la ricostruzione del tunnel su un'eventuale nuova connettività quindi questo tipo di file mi permette il diciamo la possibilità di poi di gestire uno dei tool del all'interno del del profilo del client che il line management quindi determina il fatto che io possa scegliere manualmente la linea di connettività e quindi se quella che io ho scelto non è disponibile rimango diciamo così devo ricambiarla manualmente quindi con questo se ho questa necessità questo tipo di file fa per me altrimenti il file vgx non è questo è questo qua si fa il vgm questo file invece mi è da utilizzare quando non permetto al client in autonomia di scegliersi la connettività su cui ricostruire il tunnel quindi forzando il fatto che tu esca su quella impostata come manuale e non potendo andare a ritoccare line in line management quindi questa è la condizione di scelta dei file chiaramente ovviamente la ritrovate definita poi nelle nella proprietà dell'ipsec quindi se lo andiamo a vedere mobile vpn ipsec vedete che abbiamo riferimento del file ini per andare a ritoccare poi il connection mode quindi il file ini mi permette di andare a selezionare con che tipo di connettività voglio andare a comandare a gestire la mia connessione vpn mentre il file vgm classico no quindi non mi permette di configurarlo in maniera manuale quindi qua o tutte quante le diciture riferite poi ai file ai file che voglio che voglio che voglio utilizzare ora volevo farvi vedere anche un altro link questo eccolo qua generate ecco qua la descrizione dei vari file quindi con la relazione sul line management vedete il file vgx nomenclatura nuova che si riferisce al fatto di aver voler utilizzare specificatamente qualsiasi tipo di connessione al di là di quella manuale quella manuale che chiaramente mi permette di sceglierlo nel caso non dovesse essere disponibile ritorniamo alla diciamo la restante parte quindi la profilazione va a creare nel tab specifico una ora non ho dato l'ok quindi probabilmente non l'ha creato direttamente però forse l'ho rimosso in realtà vabbè però al di là di questo c'è una creazione manuale delle della vpn ma io posso andarla ad aggiungere vedete qui andando anche in questo caso specificatamente a selezionare a quale gruppo a quale profilo voglio far vedere quali quali risorse quindi andare a creare una specifica policy specifica per quel profilo di gruppo quindi anche in questo caso la flessibilità è è elevata quindi abbiamo visto sostanzialmente come andare poi a gestire tutte le nostre vpn lato configurazione come andare poi a configurare lato client chiaramente le guide le avete viste quindi i riferimenti poi sono sostanzialmente consolidati nella nostra nel nostro help online ancora una una piccola cosa qualsiasi tipo di vpn andiamo a implementare ha una funzionalità molto molto utile molto carina che è quello di possibili blindare l'accesso mobile vpn esclusivamente se il client che fa la connessione ha anche l'host sensor installato allora partiamo con ordine che cos'è l'host sensor l'host sensor è un agent annesso nella suite total security l'agente tdr della funzionalità tdr che permette di fare il controllo edr del mio client quindi va ad diciamo così rafforzare il lavoro di un normale antivirus facendogli fare anche la parte che l'antivirus normalmente non sa fare chiaramente come tutti quanti ben sapete l'annessione di panda sta portando porterà chiaramente ad una rivisitazione dal punto di vista del concetto del tdr stiamo cercando chiaramente di andare a proporre una soluzione equivalente al tdr fatta chiaramente col prodotto col prodotto panda ma questo è un discorso attualmente da pensare in in futuro quindi che cosa succede questo flag e la configurazione opportuna del tdr installato preventivamente sul client fa sì che a poter accedere su questo gruppo di autenticazione possono essere esclusivamente pc che hanno il check che il cui firewall farà il check di presenza dell'host sensor installato quindi questo che cosa arriva ad evitare arriva ad evitare la preoccupazione che durante lo smart working è nata tutti quanti gli team manager sostanzialmente ovvero quella che io per poter accedere alle risorse aziendali possa usare qualsiasi pc qualsiasi dispositivo quindi anche quello il pc di casa dove chissà dove vado eccetera eccetera che cosa utilizzo cosa scarico e quant'altro quindi avere la presenza dell'host sensor installato che chiaramente può essere discriminata all'utilizzo dei portatili aziendali in maniera preventiva consente l'accesso alle risorse esclusivamente dopo l'ovvio controllo che il mio pc sia sicuro grazie chiaramente alle verifiche che il che il tdr può fare che tutti quanti ben sapete quindi questa lost sensor enforcement è una funzionalità ovviamente figlia della total security perché solo con la total security posso ottenere i nodi os sensor e la funzionalità del tdr da poter diciamo trarre vantaggio anche per la connettività connettività vpn e vi ricordo in ultimo chiaramente ma qui ci pensano anche i media a sottolineare quello che è successo ad esempio quest'estate oppure quello che è successo sia più in maniera più recente di pensare alla protezione esclusiva delle credenziali vpn quindi andare a proporre proteggere perché il data breach abbiamo anche il nostro strumento sul sito direttamento nel nostro watch car cloud che vi può mostrare sostanzialmente quanto debole possa essere un account quindi utilizzatelo pure andatelo a vedere verificate il vostro dominio vostri indirizzi mail per valutare effettivamente quanto sia necessaria la protezione aumentata con la multico l'implementazione delle multi fattore authentication laddove l'accesso dipende da delle semplici credenziali quindi il nostro strumento di analisi di web vi permette di andare a vedere se quali su quali data breach il vostro dominio o la vostra il vostro indirizzo mail è stato è stato tracciato e così ovviamente da avere ancora qualora ce ne fosse bisogno ancora più sensibile il concetto di implementare la multi fattore authentication all'interno delle vostre vpn e in tantissime altre cose con questo io ho terminato io vi ringrazio dell'attenzione se avete delle domande sono a vostra completa disposizione magari qualcuna ne è già stata fatta andiamo a vedere allora davide ci chiede è possibile visionare è possibile visionare velocemente una connessione led tp lato client come avviene l'installazione è compatibile con anche con win con 11 allora sulla compatibilità di windows 11 stiamo aspettando risposte dal in questo momento dal da ingegneria che sta facendo delle verifiche se chiedi se in questo momento posso far vedere una configurazione al volo dell'icb2 non è questo il diciamo così la il posto adatto passami il termine perché chiaramente poi è un webinar di presentazione quindi non è specificatamente un webinar più tecnico ti invito ovviamente utilizzando le nostre guide a farlo in autonomia ma molto semplice molto veloce le guide sono assolutamente ben fatte e chiaramente poi potrai godere del nostro supporto se qualcosa non dovesse non dovesse tornare roberto ci chiede una volta collegati con la vpn che v2 tutto il traffico locale locale passa da router remoto è possibile far passare solo il traffico vpn con il router remoto e il traffico non vpn quello locale allora sì questo è possibile ti chiedo se mi mandi una mail di promemoria però è una questione da configurare lato windows quindi in buona sostanza ti posso indicare il metodo che sarebbe nient'altro che andare a indicare delle rotte specifiche lato client però non è poi una configurazione dipendente watchcard diciamo che lato supporto watchcard arriva io ti posso ovviamente indicare le reference dove lato microsoft questa cosa viene proposta però chiaramente lato supporto watchcard il supporto va a finire esclusivamente laddove c'è la vpn normale quindi quella con la default tunnel route mauro borghi ci chiede protocollo wire guard devo verificare guarda non ne ho ancora sentito parlare non penso sia una condizione standard quindi che rientri nelle commercializzazioni esistenti dei vari sistemi devo verificare come muoversi a come muoversi a riguardo se mi mandi poi una mail di promemoria ti ti aggiorno su sull'eventuale previsione allora paolo ci chiede suggerimenti specifici per ios ipad allora quelli che puoi trovare come best practice nella nella guida sostanzialmente qua dipende da che cosa utilizzi come come vpn quindi quale tecnologia scegli e da considerare poi chiaramente che ovviamente troverai best practice diverse per il sistema operativo diversa appunto per la tecnologia diversa di mio ti posso dire al di là del di specifici settaggi della vpn sicuramente quello di accompagnare ad oggi ogni vpn che andate a proporre di diciamo di proporla quasi in maniera arrogante con la multi factor authentication come completezza non è che io voglia vendere a tutti i costi questo sistema ma ad oggi diventa secondo me mandatorio per la provvista i data breach continui e che continueranno è mandatorio per cambiare nativamente il concetto di accesso via credenziali perché ripeto una volta che io conosco l'ip e una volta che conosco username e password sapete benissimo e con un po di social hacking oppure andandoli a prendere in maniera più complessa da un diciamo da un database rivenduto nel deep web è chiaro che io posso poi accedere alle risorse perché magari nessuno si tutela in questi in questi termini quindi ribadisco che la multi factor authentication uso un termine forte sta diventando mandatoria oggi nei contesti di vpn ok ottimo feedback per enrico che ci dice che lui la sta usando su windows 11 quindi io ripeto ero per noi ero rimasto allineato con le ingegneria inerente alle verifiche però se enrico ci dice che la sta usando senza problemi possiamo tranquillamente proporla come come fattibile grazie grazie a enrico del feedback è possibile quindi accedere con la vpn da cellulare e da tablet certo assolutamente quindi con tutte le tecnologie vpn integrate che i cellulari e che i tablet hanno qua dipende da modello a modello ma sicuramente su tutti utilizzando open vpn al minimo oppure in ambiente android strokes one per la vpn ipv2 quindi assolutamente una soluzione si trova sempre comunque allora è possibile avere link al sito watchcard per l'analisi del data bridge certo e ti mando le le istruzioni c'è sia disponibile nell'area pubblica che all'interno del watchcard cloud quindi se mi mandi una mail di promemoria ti giro i link specifici per andare ad utilizzare questo questo strumento di analisi deep web allora andrea ci chiede cambiando la data channel della vpn ssl da tcp a udp deve essere cambiata la configurazione del client tendenzialmente no tendenzialmente no basta semplicemente poi rifare la connessione perché la stai andando a cambiare il profilo e lo dovresti fare se utilizzi open vpn perché genera un altro tipo di profilo ma per il client watchcard non non mi risulta che sia da cambiare che sia da ripristinare di riconfigurare il client insomma anche perché i parametri poi sono sono i medesimi allora andrea ci chiede in un contesto di utilizzo della mobile vpn ssl con autenticazione tramite active directory è possibile attivare le mfa solo per alcuni utenti allora assolutamente sì assolutamente sì nel senso che allora procediamo con ordine andrei a diciamo lasciare il doppio database disponibile quindi active directory e radius oppure firebox oppure scusami oppure la componente out point dei far box perché questo perché dalla release 12 7 i firewall watchcard se dovessero implementare se si dovesse implementare la multi factor authentication per le mobile vpn non necessitano più del radius però ripeto solo i firewall watchcard che sono annessi al cloud nello stesso tenant dove è stato deployato point quindi c'è una guida specifica comunque in ogni caso il concetto è lasci nel firewall il doppio db quindi sia il database active directory nude crudo sia quello che utilizzerai però point che può essere quindi out point stesso per i firewall descritti in precedenza oppure per quelli un po più obsoleti che non supportano l'annessione al cloud o se non vuoi associare al cloud quindi la normale configurazione del radius a quel punto che cosa succede chi dovrà utilizzare multi factor authentication a seconda della posizione del database nella lista inserirà le credenziali e la password oppure specificherà il dominio di accesso quindi database di accesso lo username e la password e quindi sarà soggetto a multi factor authentication chi invece non è soggetto a multi factor authentication mantiene il join col database originario quindi l'active directory in questo caso e segue le sue direttive di prima quindi sfruttando la possibilità nel firewall di poter specificare più database posso andare a distinguere a chi annettere la multi factor authentication e a chi no allora sempre andrea ci chiede un altro andrea parecchio andrea oggi allora dalla vpn mobile da mobile vpn è possibile far passare un certo tipo di traffico verso office 365 attraversando il tunnel allora sì non ho capito bene l'architettura ma in ogni caso sì perché come ti dicevo prima la mobile vpn può annettere sostanze può essere discriminata attraverso la policy del firewall facendo vedere passando attraverso il firewall solo quello che vai a discriminare nella policy quindi se tu metti una default tunnel route quindi lato quando ti connetti da lato mobile passando in vpn attraverso il firewall butti dentro comunque tutto il traffico di navigazione verso internet la policy del firewall ti assoggetterà una policy specifica che ti farà vedere esclusivamente quello che andrà a indicare quindi le fqdm di turno gli applicativi di turno che tu vuoi quindi la risposta è assolutamente sì oggettivamente in t80 quanti client vpn posso collegare in simultaneo con una connessione in fibra reale di 80 mega allora qua dipende dalla dalla tecnologia e dipende dal tipo di traffico che ci fai passare se io ti posso rispondere dal punto di vista della prevendita oggettivamente esclusivamente dicendoti il numero di connessioni supportate che è quello che trovi nel nel data sheet la valutazione la orienterei se la mole di traffico è elevata andrei su una tecnologia più performante quindi lì che vi due sicuramente se una mole di traffico elevato non chiuderei le vpn sulle ssl poi il dettaglio specifico purtroppo non posso dirtelo qui perché dipende ovviamente dal dal tipo di applicativo che stai utilizzando dalla banda che usa e quant'altro orientativamente però andrei per diciamo per ottimizzare al meglio sulla tecnologia ikv2 allora luca ci chiede abbiamo provato a configurare l'nps service otti direttori per l'autenticazione radius dell'ikv2 ci sono delle guide che watch car mette a disposizione per il setup windows server 16 19 sì anche in questo caso se mi mandi una mail di promemoria te le giro senza problemi quindi ti le usate tra l'altro trovi anche la configurazione nel nel nostro canale youtube watch car d'italia trovi anche un webinar specifico che ho fatto sulla configurazione step by step quindi un una sorta di di training con configurazione diretta per la configurazione appunto della vpn ikv2 con multi factor authentication su base active directory ma se ripeto se mi mandi la mail di promemoria e quindi tutta la parte nps se mi mandi la mail di promemoria ti invio direttamente la guida watch car che si trova ovviamente sul nostro help online in aggiunta luca a questa cosa ricordati una cosa che vale sempre in assoluto ovvero il nostro supporto tu stavi provando sicuramente una 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 configurazione quindi se la tua configurazione non dovesse funzionare ma è una configurazione finita puoi avere la risposta immediata rapida e veloce e come è stata fatta aprendo un caso al nostro supporto perché chiaramente si tratta di una situazione post vendita e quindi atta a risolverti proprio il problema questo non preclude che io poi ti mandi la guida di configurazione allora andrea ci chiede è possibile configurare un radius per mettere un contro usando i mac address mac address lavora layer 2 l'autenticazione vpn lavora layer successivi quindi tendenzialmente a meno che poi tu non usi il mac address ma quello è un lavoro manuale come specifica dello username ma sarebbe letto con uno username quindi in realtà il mac address della scheda client in vpn non potrà mai essere gestito da un'autenticazione database i database radius che lavorano come autenticazione locale con i mac address sono più in ambito locale quindi li vedrei più per un autenticazione per dirti per esempio su un'autenticazione locale 802 un hack o un 802.1x su un database specifico popolato da mac address non di certo su una connettività layer 3 allora e altra andrea ci chiede dalla mobile vpn è possibile far passare un certo tipo di traffic sì questo abbiamo risposto prima ok quindi direi che nps luca magi allora allora la mia mail è gianluca.pucci.watchcar.com rispondo a mauro e a tutti gli altri a cui ho chiesto ovviamente di mandarmi una mail per le diciamo così per la documentazione quindi scrivetemi a gianluca.pucci.watchcar.com stessa cosa per davide che ce lo chiede quindi mauro e davide scrivetemi pure lì andiamo avanti con le domande allora pietro anche andrea ci chiede intendevo utilizzando un tunnel not full guarda andrea scrivimi scrivimi via mail meglio diciamo la tecnologia richiesta perché adesso magari l'acronimo mi sfugge o lo valuto in un altro modo quindi sentiamoci separatamente ti darò tutti i dettagli del caso se ovviamente è disponibile in roadmap l'ultimo pietro ci chiede con una mobile vpn ssl è possibile prenotare ip address con dhcp no non supportiamo la 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 reservation ma lavorando con gli utenti è chiaro che a quel punto l'indirizzo diventa l'indirizzo segnato potendo fare la policy direttamente per utente diventa non non fattibile sulle ssl come hai visto non è possibile fare più profili mentre sulle ipsec si quindi potresti assegnarti con l'ipsec normale per ogni profilo un mini range da un indirizzo e quindi ottenere automaticamente che a quell'utente venga assegnato sempre quell'indirizzo e come scamotage potrebbe essere l'ipsec le altre tecnologie non permettono una mappatura utente indirizzo ip ma un'assegnazione dinamica però ripeto lavorando con le policy per utente riesce eventualmente a vincolare l'accesso esclusivamente allo user che vuoi che vuoi selezionare non vedo altre domande io vi ringrazio dell'attenzione e vi do appuntamento alla al prossimo webinar quindi grazie mille e buona giornata e buon appetito a tutti grazie a tutti